Musanima, crocevia della musica e cultura contemporanea, nuovo festival proposto dall'ISA con un programma abbastanza inusuale. I nomi dei compositori proposti sono tra i migliori del panorama contemporaneo internazionale. Non è la prima volta che l'istituzione sinfonica abruzzese si sposta nelle capitali di provincia. Però questa è un'idea nata insieme a un mio carissimo amico e collega, il grande professionista che si chiama Stefano Taglietti. È nata dall'esigenza di dare una voce ai ragazzi che studiano nei nostri conservatori, che studiano una materia particolare, che è la composizione. Per cui spesso questi ragazzi si trovano a scrivere dei pezzi e a non averli mai eseguiti, a non aver la possibilità di portarli in musica. E questa è una grande occasione, dare un'orchestra regionale, un'aico, a dei ragazzi per esprimersi è un grande messaggio di apertura tra formazione e produzione. Il festival propone nove prime assolute di pezzi commissionati a giovani autori, tutte composizioni per la sinfonica, sei concerti dislocati sull'Aquila, Teramo e Pescara, a collaborazione con i conservatori abruzzesi, Musanima Channel, una trasmissione radiofonica dedicata al festival sulla web radio, radiostart.it. Musanima è fatto in collaborazione con il conservatorio Casale dell'Aquila, con il D'Annunzio di Pescara e il Braga di Teramo, con Marco Moresco, direttore Stefano Taglietti del coordinamento artistico. Gli appuntamenti sono venerdì 18 maggio alle 21 all'auditorium del conservatorio Braga a Teramo, sabato 19 all'Aquila all'auditorium Shigeroban alle 18, domenica 20 maggio a Pescara all'auditorium del conservatorio d'Annunzio alle 18, venerdì 25 maggio si torna a Teramo alle 21, sabato 26 maggio a Pescara alle 21, domenica 27 maggio, conclusione all'Aquila alle ore 18. Musanima esplorerà e valorizzerà le ultime frontiere della musica e delle poetiche sonore in generale. Intanto abbiamo nove prime assolute, però anche con un organico molto bello, molto esteso, che è l'orchestra sinfonica. Noi abbiamo pensato di chiamare dei compositori anche molto diversi. Le poetiche della musica contemporanea sono tante e sono molto diverse tra loro. Ed è un mondo incredibile, fatto di tanti linguaggi e di tante linee di pensiero. Ecco, noi in questo festival abbiamo nove prime e in più ci sono dei pezzi di compositori più storicizzati che calcano i palcoscenici internazionali, eccetera, quindi come Fedele, come Francesconi. E poi c'è un livello intermedio di giovani molto interessanti che sono già in carriera e poi l'altro livello è gli studenti, quelli delle classi di composizione dei conservatori.